Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Questa volta torniamo a parlare di Libri, questo social network video che vorrebbe essere un'alternativa a YouTube, vedremo. E questo video lo dedico a una funzionalità che hanno aggiunto da poco per questo social network con blockchain e quindi vado a rispolverare il cartello investi responsabilmente e a tuo rischio. Questo non è un consiglio finanziario. E la funzionalità che appunto vi vorrei parlare, che secondo me è molto interessante e potrebbe essere anche magari una killer feature di questo social network dove si possono postare video ed è quella della possibilità di mettere i propri video a un costo, ovvero il social network per come funziona adesso funziona che uno in base a quanti video visualizza su questa piattaforma riceve dei token Libri in regalo e questi token può decidere di tenerli, può decidere di regalarli a chi è che crea certi video o può decidere di metterli in staking e quindi di utilizzare questi token per dare più visibilità ad alcuni contenuti presenti sulla piattaforma. Ma l'ultima cosa che hanno aggiunto è questa qui, la possibilità di acquistare dei video che sono presenti sulla piattaforma. In realtà non ci sono dei sistemi di sicurezza particolarmente avanzati però è possibile mettere dei propri video a un costo in Libri e quindi dare la possibilità di vedere questi video se le persone decidono di pagare una certa somma di questi token. So già, qualcuno potrebbe lamentarsi, dire sì ma come faccio a mettere in vendita qualcosa in una criptovaluta che oscilla e su questo problema vi farò vedere come anche questo aspetto è stato risolto e l'altra cosa carina è che appunto qua fa vedere che appunto in questo caso non ci sono costi di transazione o se ci sono sono proprio minimi per pagare le fee in Libri e l'altro aspetto interessante è che i video che acquistate in questo modo poi potete scaricarli a differenza invece di altre piattaforme dove in realtà avete solo l'accesso a questi video e non avete realmente la proprietà di questi video. e quindi appunto qua viene fatto vedere un esempio adesso attualmente questa funzionalità è in beta e appunto la cosa carina è che in Libri potete fare queste pagine dove andate a mettere il vostro video in embed e nel caso in cui si trattasse di un video a pagamento viene visualizzata questa cosa e quindi quando fate play vi viene proposto di fare la transazione quindi è totalmente integrato con la piattaforma molto veloce da fare una volta che siete appunto registrati su questa piattaforma che appunto non vi costa nulla e guadagnate criptovalute e se non siete ancora registrati seguite il link di invito in descrizione vi dicevo l'unico problema di questo aspetto è che le persone non sanno bene quanto corrispondono 20 libri e cose del genere e allo stesso punto anche chi è che realizza questi contenuti non sa bene effettivamente quanto valgono questi token e appunto questa funzionalità è attualmente in beta quindi ci sono alcuni video così caricati in questo modo con questo hashtag library tv paid beta e la cosa che appunto vi faccio vedere è quella che se voi caricate un video vi dà la possibilità appunto di abilitare questa funzionalità che è questa quindi normalmente i video caricati sono gratuiti e li potete anche sincronizzare tramite quelli che già avete su youtube però se magari fate dei video particolari che ci avete dedicato molto tempo e volete avere un piccolo corrispettivo potete abilitare questo add price to file e la cosa carina è che di default è in library e comunque il pagamento avviene in library in library token però qua potete anche mettere dollari quindi mettendo dollari potete decidere appunto di dare un prezzo tra virgolette stabile ed è stabile sia per chi acquista e sia per chi è che emette i video in questa modalità ovviamente se lo mettete stabile in dollari significa che questo video appunto il valore di questo video oscillerà in base alle quotazioni del momento però appunto è curioso che ci sia la possibilità appunto di utilizzare questo token anche in questo modo e ovviamente se poi volete togliere questi library dalla piattaforma potete convertirli in dollari effettivi negli exchange che gestiscono appunto la coppia library bitcoin oppure library usdt e quindi effettivamente magari ci sarà qualche oscillazione perché nel frattempo il valore è cambiato però se aumenta il volume delle transazioni non dovrebbero esserci delle oscillazioni poi più tanto pesanti però appunto questa funzionalità è ancora sperimentale tuttavia ritengo sia interessante perché comunque è un modo per vendere e mostrare video sia gratuiti che non integrato e probabilmente potrebbe avere un qualche caso d'uso interessante e interessare a molte persone che dire questo era il mio video sull'argomento come sempre lasciatemi un mi piace se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e lasciatemi un commento anche di cosa ne pensate di questo library e di questa funzionalità che è stata aggiunta che appunto integra la possibilità di acquistare video all'interno della piattaforma ciao a tutti e ci vediamo in un altro video